Vittoria importante, vittoria da squadra, grande compattezza, squadra propositiva, squadra che ha giocato l'uno per l'altro, consapevoli di avere delle difficoltà di calcifica ma consapevoli che se siamo questi e mettiamo sotto una squadra come Barletta possiamo arrivare all'obiettivo. L'obiettivo che abbiamo tutti quanti, società, tifosi, staff e squadra. Io dall'inizio quando ho detto se siamo compatti, uniti e lasciamo perdere le chiacchiere da bar possiamo fare veramente bene. Hai preparato una partita, lo si è visto in campo, di grande aggressività, di grande cattiveria, agonistica, un po' rispecchia anche quello che è stato il tuo atteggiamento in panchina, ti abbiamo visto sbracciare, quasi telecomandare la squadra, la senti più tu a questa squadra adesso? Sì, ma io sono così caratterialmente, io vivo 24 su 24 ore questo lavoro, mi piace, lo amo, sono un passionale e la mia squadra deve essere aggressiva, la mia squadra non deve essere attendista perché non bisogna attendere, se attendi concedi campo e quindi vai in difficoltà. Siamo abituati ad attaccare in avanti, lo facciamo e quando lo facciamo lo facciamo bene e bisogna avere questo atteggiamento, aggressivi e poi quando abbiamo la palla essere più positivi.